L'ennesima trasferta a stelle, strisce del sindaco di Roma, Marino confermata oggi dal Campidoglia che avverrà tra mercoledì e giovedì prossimo, ha scatenato immediatamente una nuova polemica politica. La causa è l'invito da parte del sindaco di Philadelphia, Michael Natter, al collega primo cittadino della capitale, per seguire la visita del Papa in Pennsylvania il 24 settembre, invito che Marino ha accettato. Una sorta di ringraziamento da parte di Natter spiega il Campidoglio dopo un incontro avvenuto tra i due nel giugno scorso a Roma, tanto che le spese per il viaggio di Marino, sottolineano, saranno sostenute dal comune di Philadelphia per l'aiuto offerto nell'organizzare l'evento. Ma la nuova traversata atlantica di Marino fa tornare alla mente non solo le numerose trasferte che hanno contrassegnato questi due anni alla guida della città, ma soprattutto le sue vacanze di quest'estate che il sindaco di Roma ha deciso di svolgere tra Stati Uniti e Caraibi, forse per motivi di sicurezza, a migliaia di chilometri di distanza dalla capitale in cui era esploso il caso Casamonica. Era rimasto lì a scrivere un libro, anche quando il Viminale doveva decidere sulla possibilità di sciogliere la giunta dopo la bufera di mafia capitale e valutava le misure sul giubileo affiancandogli di fatto, come un tutor il prefetto Gabrielli. Il viaggio suscita ironie e polemiche da parte degli avversari politici e un silenzioso malumore nelle fila della sua maggioranza. Marino lascia di nuovo Roma in un momento molto caldo per la capitale, dopo il clamoroso caso del Colosseo e nuove agitazioni nei trasporti annunciate nelle prossime settimane. Grazie.